Ciao amici di Foodpink, sono qui e voglio farvi ragionare come ragiono io quando voglio pensare di integrare. Allora l'integrazione è sempre integrare ciò che manca nella mia dieta, arricchire, migliorare, potenziare, ci sono tanti aggettivi che possiamo utilizzare, ma vi spiego come mangio io, perché per esempio io non mangio tantissima carne, sto abbastanza lontano dalla carne, ogni tanto mangio diciamo il pesce, questo sì, però vi voglio farvi vedere come vi suggerisco di utilizzare la vostra shape shake, perché la shape shake è molto piena, molto completa, però a me piace sempre ragionare come stessi mangiando normale, cioè poi alla fine mangiare bene e non plus ultra, proprio frutta, verdure, carne magro, legumi, tantissimi oli che sono monoinsaturi o poliinsaturi buoni però, tipo olio di cocco, però a volte diventa difficile mangiare bene, specialmente quando siamo in viaggio, al lavoro, di corsa e non riusciamo a mangiare bene. Ecco dove entra Foodpink, ci dà un sacco di opportunità di mangiare bene, anche quando siamo a corto di tempo di cucinare un vero e proprio pasto. Allora, io vi voglio far vedere come faccio la mia prima colazione quasi ogni mattina, io pratico digiuno a intermettenza, digiuno a intermettenza suddivide la vostra giornata in finestre, di finestre di, si chiama feeding, ok? Feeding o quando mangio e finestre quando non mangio. Di solito suddivido la mia giornata in dieci ore diciamo di mangiare e 14 ore non mangiare, mettete ovviamente in mezzo la vostra ora di sonno e così io comincio di solito a mangiare verso il mezzogiorno, alle 11 ore e mezzogiorno. Amo l'ananas perché proprio come gusto mi piace, ma guardate la parte che utilizzerò, utilizzerò il torsolo perché il torsolo è pieno di bromelina, la bromelina è quella che ci serve per digerire al meglio, aumentare il metabolismo e drenare per tutte le nostre amiche che vogliono drenare. Allora, uso un estrattore di nutrienti, ok? Un estrattore di nutrienti a differenza di un estrattore, quello che ti danno soltanto l'estratto che è succoso, l'estrattore di nutrienti vi lascia le fibre dentro il vostro bibite. Due grandissimi plus di questo, sono facilissime da pulire perché basta asciacquare la gallecina che tu hai bevuto la tua bibitone e poi dopo lo sciacqui sotto l'acqua corrente e in 3 secondi è pulito, non c'hai i filtri, non butti la fibra che è la parte più importante. Altro trucchetto, altro trucchetto che facciamo, io mi prendo la mia latte di cocco, potete anche usare la cocco whey se volete o altrimenti il latte di cocco è il mio latte vegetale preferito, proprio la bevo a gogo, mi piace tantissimo. possiamo aggiungere anche altri frutti di stagione, il mio consiglio è questo, guardate, prima ne mettiamo il nostro shape shake a frutti di bosco, ok? Shape shake è non solo proteica però è un pasto completo e anche un allenamento per aprirlo, aspettate, mi devo darmi una mano per aprirlo. Userò shape shake al gusto di frutti di bosco, ok? 30 grammi a 20 grammi di proteine, aggiungo un altro po' perché ripeto, io non mangio tante proteine animale, però è importante ogni tanto di integrare perché comunque ti danno sostegno ai muscoli, è molto importante, ma adesso vi faccio vedere il mio trucchetto, specialmente per l'estate, lo faccio anche in inverno perché mi piace da morire, ma guardate qua, io aggiungo frutti di bosco surgelate, perché? Perché se la voglio mangiare dopo cena diventa una sorta di sorbetto, una sorta di cremolato perché dà proprio una consistenza molto cremosa del mio frullato e l'altra cosa, i frutti di bosco secondo me è uno dei migliori frutti di mangiare in assoluto perché è veramente poveri di zuccheri ma ricca di antiossidanti, ok? L'altra cosa è che quando perdiamo un frutto di bosco che è surgelato vuol dire che viene quasi fermato al momento la sua proprietà organoletiche perché viene surgelato e questo vuol dire che possiede e mantiene il massimo valore nutrizionale per il nostro corpo, ok? Messo tutto insieme lo metteremo adesso nel nostro frullatore e andiamo a fare il nostro shape shake super super proteico e super salutare il nostro corpo. Allora ho tritolato tutte le mie frutte di bosco surgelato con la mia shape shake a gusto di frutte di bosco della mia food spring e guardiamo la consistenza, ok? La consistenza vedrai che è molto molto cremoso e molto molto gustoso e guardate che cos'è, ok? Allora la cosa bella qua, questo diventerà oggi la mia prima collezione, però potrebbe essere anche un ottimo pasto come spuntino durante il barco della giornata, magari non tutto il bibitone, occorre un desert dopo cena perché comunque è dolce appunto giusto, c'hai comunque anche aggiungendo un frutto di stagione o l'ananas o i frutti di bosco che sono suggerlati ti arricchiscono questo shape shake, ti sentirai appagato con il palato, però dall'altra parte ti sarai sicuramente nutrito in modo sano, gustoso ed intelligente. Che differenza c'è tra la shape shake e le whey protein classici di food spring? Questa shape shake ha delle aggiunte, ok? Ha inolina che è una fibra prebiotico che aiuta a nutrire le nostre microbiome facendoci sentire più sazi, questa è una cosa molto importante, ma migliorando proprio la flora batterica delle nostre viscere per vivere meglio, ok? Ci aiuta la microbiota, la microbioma a vivere al meglio. Poi l'L-carnetina, l'L-carnetina è un simile aminoacido che nel nostro corpo aiuta a produrre energia attraverso la scissione dei grassi, ci aiuta proprio a bruciare al meglio i grassi per darci non solo energia ma aiutarci a tenere la linea in modo più efficace. Poi c'è il calcio, il calcio non è soltanto importante per le nostre ossa che ovviamente è importante per le osse e i denti, ma il calcio ci aiuta anche a aumentare il nostro metabolismo, non so se lo sapevate, e finiamo con la nostra proteine, la nostra whey protein che viene da grass fed beef che vuol dire il bestiame che viene allevato a terra per avere la massima concentrazione di omega 3 nel latte per avere una proteine altamente salutare che viene dalla Nuova Zelanda. ecco perché se volete rimettervi subito in forma, avere un aggiunto, un potenziamento del vostro metabolismo, partiamo con il shape shake, una volta che avrete trovato la vostra magari forma fisica potete spostarvi più sui whey protein, ok i gusti sono uguali, il gusto di caramello, di vaniglia, di frutti di bosco e via vicendo, sono uguali tra whey protein e la nostra shape shake, l'altra cosa è un modo veramente divertente e gustoso per ritrovare la linea perché comunque ti sazia, perché l'inolina ti dà tanta sazietà che è fondamentale quando vogliamo ritornare in linea, così non mangiamo tutto quello che ci troviamo intorno, va bene così, cin cin, non dimenticate il mio codice sconto, il mio codice sconto è gillyt, ok per avere 15% di sconto durante le check out al vostro foodspring.it e ci vediamo alla prossima Food Springers, passate una giornata favolosa!